lo volete vedere un altro film di spider-man probabilmente anche no se siete stanchi di vederlo sul grande schermo come tanti altri supereroi però attenzione perché il film che adesso io vi metto in descrizione qui sotto con il link non è apparso sul grande schermo ma sul piccolo piccolissimo schermo di youtube lo ha realizzato un regista che si chiama gavin conop che ha raccolto 112 mila dollari su indiegogo una piattaforma di crowdfunding e con quei soldi e i suoi amici attori insomma ha realizzato due ore di film su l'uomo ragno è comparso online il 12 agosto 2023 ieri e in un giorno hanno visto un milione 600 mila persone o meglio ci sono state un milione 600 mila visualizzazioni io l'ho visto ieri sera adesso vi dico cosa ne penso ma la cosa interessante secondo me è proprio questo strano esperimento di fan film utilizzando un personaggio che è una proprietà intellettuale della marvel e quindi oggi della disney e lui se ne è sbattuto ha fatto non una clip ha fatto un film di due ore ok il film si concentra su un paio di storie chiave dell'arrampicamuri la prima è quella classicissima degli anni 70 di stan lee e john romita in cui si raccontò la morte della sua prima fidanzata importante gwen stessi per mano del come si chiama il green goblin ok il folletto verde e la seconda è un episodio molto più recente non mi ricordo chi l'aveva scritto mi pare che fosse disegnato da john romita junior ma posso sbagliare comunque era una storia un episodio un solo fascicolo straziantissimo che raccontava del più grande fan dell'uomo ragno c'è un bambino di dieci anni malato di tumore che l'uomo ragno spider man andava a conoscere a casa sua per insomma per parlare col suo più grande fan cosa che si è vista che è successa poi nella realtà dove bambini malati di tumore o di gravi gravi malattie sono stati allietati dalla presenza di attori travestiti da supereroi o addirittura degli attori stessi che hanno fatto i film allora questo film di due ore che non so quanto resterà online ma insomma accorrete a vederlo prima che la marvel intervenga che la disney mandi i suoi avvocati mannari contro questo questo conop gavin conop beh è un film abbastanza opinabile se lo prendiamo come film in se stesso è una lagna terrificante ve lo dico subito perché è proprio un film sul lutto sulla perdita di questa fidanzata siccome lui vorrebbe abbandonare il la diciamo la professione di supereroe perché si sente inadeguato e poi però conosce questo bambino ed è tutto uno strazio ragazzi è tutto un pianto questi attori probabilmente sono caduti in depressione dopo aver girato questo film perché piangono sempre e gli episodi diciamo i momenti in cui non c'è l'uomo ragno che volteggia fra i grattacieli fra l'altro quei momenti bellissimi fatti benissimo ecco quei momenti sono tutti di dialoghi un po alla smallville in cui questi ragazzi condividono i loro sentimenti in una maniera veramente molto mielosa è uno smallville del di spider man che mi ha fatto anche pensare perché non l'hanno ancora fatto dopo tutto si è sempre trattato alla fine o meglio soprattutto un tempo si è si è trattato di una sopopera su carta il grande successo di spider man fu dovuto proprio questo usarono gli stilemi i ritmi le i rapporti tra i personaggi tipici delle sopopera e anche il modo di rimandare da un episodio all'altro per quanto riguardava la vita privata di peter di peter parker che era proprio da sentieri ecco mettiamola così questo spider man lotus comunque si fa notare si fa notare perché le scene di azione sono veramente ben fatte spider man c'è tutto bello il costume il costume proprio classico tradizionale col di john romita l'attore vabbè dai tutto sommato è accettabile nessuno di questi attori brilla però ci sono alcune soluzioni visive anche ben riuscite è un film veramente comunque molto molto che basa tutto il suo il suo discorso proprio su questo pietismo su questo spider man che non fa altro che essere in lutto e piangere per gwen stessi o per chi magari negli anni 70 ha letto quella storia adesso alla mia età più o meno perché ragazzi il tempo è passato anni 70 80 insomma per chi ha letto quelle storie può essere interessante rivedere spider man quella versione di spider man quello che insomma non è tom holland non è non è gli altri due non mi ricordo i nomi in questo momento è uno spider man più aderente a quel tracciato dei primi tempi di stan lee ed è anche stato molto intelligente secondo me il regista in nel riproporci il costume di john romita ma anche nel proporre a un certo punto il costume primissimo costume quello quello insomma dei primissimi episodi ossia il costume disegnato da steve ditko il film si fa guardare sono due ore abbastanza piacevoli io se vi devo dire la verità sono andato avanti veloce nella maggior parte delle scene di dialogo alla smallville veramente noiosissime le musiche anche le musiche niente male è girato bene ma la cosa che mi ha fatto proprio pensare che uno si mette oggi così di buzzo buono di testa sua va su una piattaforma di crowdfunding raccoglie 112 mila dollari e poi nonostante evidentemente non ne abbia alcun diritto fa un film di spider man cioè guardate che è una potenziale nuova frontiera delle fan fiction se qualcuno che padroneggia la cinematografia padroneggia poi insomma comunque si fa rispettare uno che padroneggia gli effetti speciali uno che ha degli attori che sono ottimi ottimi attori di film di serie b e beh è una notizia il fatto che uno possa mettere su un film di questo genere perfino appunto su un genere che richiede dei bei soldi questo ci è riuscito con 112 mila dollari che è veramente una miseria se vogliamo ora il film non è monetizzato su youtube perché altrimenti probabilmente sì gli avvocati mannari della disney se lo spolperebbero vivo e con lui tutta la sua famiglia però questo questo tizio si farà notare penso che da lì da qui in poi probabilmente gli si apriranno nuove porte per realizzare qualcosa di più professionale qualcosa che insomma magari nella serie b del cinema ma stiamo parlando di uno che evidentemente è un professionista interessante interessante magari non è un gran film ve lo dico molto sinceramente se lo guardate ditemi cosa ne pensate soprattutto se siete un po di quelli che conoscono spider-man che hanno letto quelle vecchie storie insomma che magari ancora quando ripensano a queste si si commuovono perché sì siamo post nerd ma prima di essere stati post siamo stati nerd e come